Buongiorno Anna, ti alzi, devi andare a scuola? Oh sì, faccio la verifica di matematica. Beh allora, veloce? Oh no mamma, Diana, mi prendo in broccio, sei troppo pesante. Mamma ho paura oggi, ma non devi avere paura, hai studiato? Non ce la farò mai, ma sì, io vado a fare la colazione, ok, arrivo subito. Ok, tutte le cose sono dentro, anche il mio libro di matematica, ma sì, ce la farò. Ok, sopra, sotto, più per, allora, non devo dimenticarmelo, ok, ok, ok. Bene vado, ciao mamma, non voglio arrivare a ritardo. Anna, ti ho svegliato prima, hai tempo, fai colazione per favore. Posso farti anche una cioccolata, se vuoi. No mamma, meglio niente cioccolato, non voglio rischiare. Prendo solo un po' d'acqua. E questa mela me la mettono all'azaino, sai, se mi venisse fame. Ma Anna, stai tranquilla, ce la farai, ok? Sarà proprio una sciocchezza. Grazie mamma, dopo. Tessa, devi alzarti, sono le quattro e mezza. Tessa Schnösel, sei senza responsabilità, devi alzarti. Oggi delle cose importanti da fare, come la verifica di matematica. Oh mamma, scusa, non avevo sentito la sveglia. È così tardi? Sì, Tessa, te l'ho detto, sono le quattro e mezza, per favore. C'è il tuo personal trainer fuori dalla porta. Sì, prego, Tessa, sveglia. Ok. E mi raccomando. Ah, comunque complimenti per l'abbigliamento. Incomincio già a fare le flessioni. Bene, ora gli squat, pronti. Uno, due, tre, quattro. Oh, ma che brava che sei, Tessa. Quanto devo stare ancora? Sono stati solo 20 secondi, ieri ce ne hai fatte come 25. Tessa, questo era quanto per oggi, sei stata abbastanza brava, sei in forma, ok? Ci vediamo domani mattina. Grazie. Oh, sudate un sacco, vado subito a farmi una doccia. Poi arriva la mia massaggiatrice. Ah, sì, lì, lì mi fa malissimo. Oh, signora, se le rimanca calma, faccio tutto io. Oh, sì. Ah, sì, spero che ora si senta più rilassata. Ah, sì, molto meglio, grazie. Oh, no, sono davvero pronta per la verifica, mi sento pronto. Bene, Tessa, allora ti chiedo ancora un paio di cose. Cosa vuol dire quanto fa un mezzo più tre per tre quarti? Ah, ah, allora, moltiplica, dovrebbe fare due. Oh, sì, esattamente. Allora ci vediamo alla prossima lezione di recupero, ce la farai, ok? Grazie, signor professore, è stato davvero di grande aiuto. Ora, finora del mio programma per oggi. Ora devo andare a scuola, ma farò un po' di colazione. Ah, vediamo cosa c'è qui. Tessa, per favore, mi dici cosa stai facendo. Hai la lezione di musica ora, così che poi sei molto tranquilla. Buongiorno, Tessa. Oggi ho portato la chitarra, volevo fare un po' di esercizi con te. Sei pronta? Oh, scusami, mi ero totalmente dimenticata. Sì, sì, sono pronta. Bene, adesso... Ancora una volta. La, 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 la. Oh, la mia piccola. Sì, ora hai finito anche con il tuo... Hai fatto con il tuo personal trainer, poi quello che ti fa ripetizioni, poi l'elezione di musica, dovresti essere assolutamente pronta. Oh, ma sì, mamma. Però ora basta, mamma, insomma. Ho già fatto così tante cose, e non sono nemmeno ancora andata a scuola. Tessa, cosa vuol dire? Voglio solo il meglio per te. Io ti organizzo qui. Insegnanti, personal trainers. E questo è grazie? Mamma, non intendevo così. Non arrabbiarti. Pensavo solo che ora sono davvero super pronta, ok? Possiamo andare. Pia, viene anche tu l'ascensore? Buongiorno, sì, ci sono anch'io. Ciao, Anna. Posso venire anch'io con l'ascensore? Sì, sì, veloce. Wow, sono super agitata. Spero che non sarà troppo difficile. Ma state tranquilli. Buongiorno. Buongiorno. Oh, siamo arrivati per primi. Siamo super puntuali. Oh, fantastico. Hai fatto gli esercizi che ci aveva dato per casa? Ma sì, 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 li ho fatti. E mi è uscito 25. A te? Io all'inizio non riuscivo a farlo. Però poi la mia mamma mi ha aiutato e sì, anche a me è uscito 25. Pia, non ti preoccupare, ok? Anche a me è uscito così comunque. Sì, anche gli altri esercizi non mi sembravano così complicati. Andrà tutto bene. Ah, Tessa, sì, sì, sì. Ti porterò personalmente in classe così che sarai tanto rilassata. E così che andrà benissimo questa verifica. Mamma, ora basta, ok? Sono praticamente in classe e ce la faccio da sola. Tu? Noi! Io ti porto fino al tuo banco. Oh, questa scuola è così sporca e brutta. Oh, ma anch'io sono stata in questa scuola da piccola. Ma nessuno dovrebbe saperlo. Mamma, ora puoi davvero andare? Sì, sì, ce la fai, Tessa? Eh sì, oggi pomeriggio ti ho preso ancora una massaggiatrice. Ti rilasserei un po'. Oh, ancora un massaggio? Ma l'hai già fatto stamattina? Oh, questa giornata non finirà mai. Eh, ciao, Tessa, hai fatto anche tu gli esercizi che ci avevano dato ieri? Anna, cosa credi? Certo che la faccio e per favore non parlare con me. Ha avuto una mattina molto impegnativa. Buongiorno, bambini, siete pronti? Oggi c'è la verifica. Sì, siamo pronti. Eh, sì, ultima fila, cosa succede? Oh, no, stai scherzando? Qualcuno si è addormentato. Oh, no, Tessa si è addormentata. Ma, sì, ha detto che è una mattinata faticosa. Sì, mi immagino, da lì famiglia Schnoesel.